Ciao a tutti ragazzi, qui è Bluelight e benvenuti oggi in questo nuovo video Oggi sono qui in questo nuovo episodio di Ace of Spades Allora ragazzi, oggi siamo in un classico deathmatch a squadra Siamo nella mappa Londra Questa mappa l'ho fatta quando avevo fatto la modalità VIP Quindi più o meno me la ricordo E quindi oggi andremo a fare un classico team deathmatch Se sentite l'audio male è perché sono raffreddato Quindi non è colpa del computer o dei cose del genere ma è colpa del raffreddore Sto comunque registrando Ace of Spades Anche se lo sto registrando un po' più tardi perché sono stato male però GG Ora iniziamo, questa è la seconda partita che faccio oggi perché Quella prima di questa Mancavano 3 minuti quindi Non l'ho voluta registrare Comunque abbiamo perso Adesso ho già fatto una prima kill Andiamo... oh 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 mortacci tua Chi è? Piede questa Dove è che è andato? Mortacci tua Io ti sparo qua Iscio Vai vai sei mio sei mio sei mio Sei mio Ma dove vai? Dove vai? Dove vai? Contro uno con l'arma pesante Dove vai? Col cecchino Poi lui col cecchino Va va verso i nemici Dove vai? Ma resta camperato no? No lui va Un taxi epic Oh What the fuck Guardi che hanno fatto là sopra Vai Sally che non ti hanno visto Vai Blue White che non ti hanno visto Lui si però Lui ti ha visto Lui ti ha visto In volo, in volo mentre cadeva Incredibile Oh Oh Scappa 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 Ho due di vita Nooo Ma non ho gioccato Eh vabbè ce l'avevo pure dietro Noi infatti mi ho ucciso questo Fuck Attento sniper mio Vai sniper Si è buttato in acqua È morto Ma come ho fatto? Arriva qua Ma dove vai? Dove vuoi andare? Dai Ancora che ti ostini Ma dove vai? Fuck Proprio il cecchino contro Che palle No 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 Modonna Mamma mia Mamma mia Blue Light Non si fa vedere Proprio Blue Light Silenzio Bam 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 Come mi hai preso? Ma non è vero Mi hai preso un testa dietro Che 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 è? Cioè Ma non è mai vero Ma basta con sto buco Lo chiudiamo? Non si pure io Oh Mortacci loro Mortacci tua Ma che è? Cambio lo spawn? Cambio lo spawn Non è andato No non ci credo Vai 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 No non gliela fanno fa Madonna che kill stava facendo Che kill stava facendo col coltello In aria Mortacci tua Vai vai Blue Light Adesso scatena tutta la sua ira E' calla Perché ogni volta che mi fomento Mi devono uccidere Ogni volta che sto fomentato Mamma mia Non è possibile Vai col tiratore scelto Oh si il cecchino si Voglio il cecchino Andiamo a cecchinare qualcuno Andiamo 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 A prendere questi stronzi Questo stronzo sta qua Perché questo stronzo sta Qua Che Pamma colpa la testa Vendetta mortale Capriole per Blue Light Mettiamo queste Mettiamo questa Mettiamo questa E dai no Facciamo i seri Dai Ci penso Memo Regà se mi killa Quitto Quitto da sto gioco Se mi killa con quello Madonna Ero pronta a quittà Via Via sono la pippa Via sono la pippa Attento zi Attento zio Attento che questi ci erano Mamma Madonna che pippa Mamma mia colpa la testa E qua invece voglio i soldi Invece Eh si Ecco si Dopo questa kill Lui salta E' tutto felice Salto salto Mi piace saltà Come disse la mamma Però poi Guardate come gli piace saltà Questo Mortacci di tu madre Quella si che salta No tu Quella sa saltà 91 pari No 91 pari Devo prendere di nuovo Devo prendere il comando Devo andare a spaccare i culi 92 93 Se perdiamo di un punto Mamma mia Devo bippare tutto quanto il video Poi eh Dai 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 Andiamo 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 No 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 Sono caduto C'era quello là Sono caduto Come un Pagliaccio Ma datemi No aspettate Scaviamo Scaviamo Va Risaliamo 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 Dai Non è possibile Nel momento della kill Non so a chi stanno sparando Buongiorno Qua c'è uno verde No Sei mio Sei mio Sei mio Non sei più mio Vai saliamo Saliamo Uh Di trick Di trick Vai vai Quanto Oh vinciamo di 4 punti Manca un minuto No questo Questo Mori 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 Bravissimo Blue light Lo sto pure dominando Vai così È il nostro momento 108 A 101 Passiamo Passiamo qua Passiamo qua Demico Dai Pure Van Mario Sto dominando Vai così Vai così Ho finito le armi Le ho riprese Ancora col cortello Questo Doppia uccisione Non si ferma più Blue light È nel momento Kill Questo mi ha lisciato Da dietro Mamma mia Blue light No lo fermano Lo fermano Lo fermano Dopo 4-5 kill Blue light è passato anche Al primo posto Della sua squadra Dai No come la gente Si unisce ai verdi Perché ti unisce ai verdi Vabbè Si è giusto Non metti che ci sono nemici qua 117 A 110 In teoria Se noi Ah ok Abbiamo vinto Blue light Prende ipocondria Eh si Infatti È giusto Meno merito Quindi Abbiamo vinto Di 7 punti Forse Le 4 kill finali 5 kill finali Di blue light Hanno Aumentato il vantaggio Incredibile Proprio lui Quindi 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 Vediamo tutti i livelli Che aumentano Tutto quanto Guardate come livello Mettiamo un gg Per tutti Perché adesso Io quitterò Colpo alla testa Livello 145 Monstro Basta Disconnetti Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare Mi piace Di commentare Di condividere Questo video La pagina facebook È in descrizione E anche il sito web Quindi Ciao a tutti da Blue light Ciao a tutti Ciao a tutti